Da pochissime settimane il Limiti Bank ha portato delle modifiche al proprio conto corrente facendo storcere il naso a tantissimi utenti. Se vi ricordate, proprio ad aprile di quest'anno vi ho portato una recensione super completa proprio del conto corrente di Limiti Bank. Ma quella recensione ad oggi ha già bisogno di un aggiornamento e di ragionarci un po' per capire se il conto corrente di Limiti, che mi era piaciuto davvero tantissimo, valga ancora la pena oppure no. Andiamo! Amici ben ritrovati, io sono Don Maglio e se siete d'accordo imposterei questo video in modo un po' diverso. La mia recensione pubblicata ad aprile 2023 è ancora la più completa su tutta YouTube Italia nonché in prima posizione proprio per la parola di ricerca. Perciò ve la ripropongo ma interrompendo il Don Maglio del passato tutte le volte che serve per darvi tutte le spiegazioni in merito alle modifiche apportate dall'Inlimiti Bank. Alla fine del video trarremo le nostre conclusioni e decreteremo una volta per tutte se il conto è ancora da prendere in considerazione oppure Illimiti ha fatto proprio un buco nell'angolo. Come sempre per tutte le mie recensioni cominciamo dalla cosa più importante, la sicurezza. Il gruppo Illimiti è italianissimo e nel 2018, data in cui è stato creato, ha raccolto davvero tantissimi milioni di euro. E dopo qualche acquisizione di istituti già esistenti nel 2019 ufficialmente è stato lanciato sul mercato. Ovviamente anche questo conto aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi altrimenti non ve lo porterei qui sul canale. Il che vuol dire che i nostri depositi in caso di fallimento o qualsiasi altro problema saranno tutelati fino a una cifra di 100.000 euro. Quindi sì, per tutti coloro che se lo stessero chiedendo, Illimiti è assolutamente sicuro. Per quanto riguarda le operazioni base, quelle che fondamentalmente troviamo più o meno in tutti i conti correnti, sicuramente col conto Illimiti potremo inviare e ricevere bonifici, inoltrare e ricevere bonifici istantanei, pagare bollettini RAV, MAV e Bollo Auto, effettuare ricariche telefoniche ed eventualmente richiedere anche la carta di credito. Tra pochissimo vedremo anche i costi di ognuno di questi servizi, ma nel frattempo altre opzioni degne di nota del conto corrente Illimiti sono sicuramente i progetti di spesa. I progetti di spesa altro non sono che delle sezioni all'interno della nostra app, del nostro conto corrente, che ci consentono di accantonare delle cifre per raggiungere un nostro obiettivo di risparmio o un obiettivo finanziario specifico. Il tutto avverrà in modo super veloce ed immediato, in quanto potremo fare questi spostamenti nei nostri progetti di spesa direttamente dal nostro conto corrente Illimiti. Come avrete capito, si tratta di quelli che altri competitor chiamano salvadanai, ma qui c'è una differenza sicuramente molto importante. Anche se non è tantissimo, i soldi che andremo a destinare all'interno di questi nostri progetti di spesa genereranno degli interessi pari allo 0,5% lordo annuo. Avremo inoltre la possibilità di accedere a una serie di servizi finanziari, come la richiesta di prestiti personali in partnership con Santander's, assicurazioni personali di varia natura, come quella sulla vita o sui nostri adorati animali pelosi. Per non dimenticare poi il conto Deposito Illimiti, davvero un bel prodotto e di cui vi ho parlato qualche tempo fa, vi lascio qui il video. Una caratteristica dei nuovi conti correnti di Illimiti è quella del binomio con i conti Deposito ancora più forti che in passato. Nel momento in cui sto registrando questa recensione, la promo è fighissima e sarà valida fino al 29 giugno 2023. Ovviamente tenete sempre d'occhio i miei shorts, perché non appena verrà o prorogata o modificata, vi avviserò in presa diretta. Quindi per chi sottoscriverà il conto Classico o Premium entro il 29 giugno 2023, avrà la possibilità di sottoscrivere anche un conto Deposito con dei tassi promozionali davvero molto alti. Con il conto corrente Classic potrete accedere ad un tasso proporzionale fino al 4,5% annuo. Si parla ovviamente di un vincolo di 60 mesi e il tasso sarà proporzionalmente più basso man mano che andiamo a scendere con il periodo di vincolo. Per quanto riguarda invece il conto corrente Premium, il tasso a cui potrete accedere con il vostro conto Deposito sarà un po' più alto del 4,75% e anche in questo caso funziona come abbiamo appena visto. Ora siamo arrivati al punto più importante del video, ossia quello relativo ai costi. Il conto corrente di Limiti Bank sarà disponibile in due versioni, quella Start, che è quella di cui stiamo parlando in questo video, e quella Plus, che è a pagamento. Ad oggi l'offerta si compone sempre di due conti correnti denominati però Classic e Premium. Quello Classic avrà un costo di 3 euro al mese per un totale di 36 euro annui ed il secondo che, qualora vi interessi, fatemelo sapere con un commento, avrà un costo mensile di 7 euro. Attenzione però non fatevi scoraggiare da questi costi perché perlomeno per quanto riguarda l'offerta denominata Classic alla fine del video vedremo come sarà possibile comunque portarsi a casa un conto corrente gratuito. Andiamo quindi per ordine e partiamo dalle caratteristiche base. I bonifici saranno sempre e comunque gratuiti, mentre per quanto riguarda i bonifici istantanei, nella versione Start che stiamo analizzando avranno un costo di 2 euro, mentre saranno gratuiti nella versione Plus. Per la ex versione Start, quindi l'attuale Classic, i bonifici istantanei saranno totalmente gratuiti. E devo aggiungere che questa caratteristica, beh, non è poi così scontata. Sibill e Pago.pa costeranno rispettivamente 1,95 euro, 1,90 euro invece il costo per il pagamento del bollo auto, 0 euro ovviamente per la ricarica al cellulare e 2 euro per il pagamento dei bollettini postali. I costi, come avete potuto vedere, sono assolutamente accettabili, anzi forse sono mediamente più bassi rispetto agli altri conti correnti che vi ho portato fino ad oggi sul canale. Altri costi da segnalare sono quelli relativi alla carta di credito, che nella versione Start costerà 20 euro per la richiesta più 2 euro di spese in oneri mensili, per un totale quindi di 44 euro, che invece nella versione Plus sarà al netto dei 20 euro iniziali. Anche per quanto riguarda la carta di credito, in realtà ad oggi la situazione non cambia assolutamente, se non fosse per i nomi dei conti che ora sono classiche. Per chi fra voi avesse la necessità di inoltrare bonifici, extra sepa, in valuta, questi ultimi avranno un costo di 8 euro. La carta che riceverete sarà una carta di debito, quest'ultima non avrà assolutamente nessun costo di emissione, e sarà gestibile direttamente tramite app, dove potremo modificare alcune caratteristiche, come ad esempio i massimali e i limiti. Qualora ne abbiate la necessità, col conto corrente in limiti, sarà possibile anche richiedere una carta prepagata. Resta per me senza dubbio uno dei temi più importanti, quello relativo ai costi di prelievo all'ATM. Vi dirò la verità, ci ho messo un po' per digerire come hanno strutturato proprio quest'ultimo punto, ma tutto sommato devo dire che non mi dispiace affatto. Nella versione Start potrete prelevare gratuitamente, tre volte al mese, cifre superiori a 100 euro. Andrete a pagare dalla quarta operazione, o per cifre inferiori a 100 euro, 1,50 euro. Bene, a tutte le persone che soprattutto su Instagram, seguitemi se ancora non lo fate, ma in realtà anche su YouTube, si sono lamentate che il conto sia diventato meno appetibile, rispondo con questo video dove palesemente le modifiche sono state assolutamente minime. Senza dubbio la modifica che ha destato più scompiglio nella mente dei potenziali clienti è il pagamento dei 3 euro mensili per il conto classi. Come promesso però vi racconto come sottoscrivere i limiti e comunque continuare a pagare 0 euro. Bastere infatti accreditare lo stipendio o la pensione per non incappare nei 3 euro mensili, oppure, attraverso il conto deposito, vincolare cifre a partire da 5.000 euro. Per quanto mi riguarda, il conto in limiti è sempre un gran bel conto. E sicuramente chi sceglie questa tipologia di conto corrente lo fa per utilizzarlo come un conto principale da utilizzare tutti i giorni. Quindi, tranne che in particolari casi, andrà ad accreditare o la pensione o sicuramente il proprio stipendio. Dal link in descrizione ovviamente potrete scaricare il vostro conto corrente in limiti, ma mi farebbe piacere se con un commento mi fate sapere cosa ne pensate di questo conto e di queste novità. Ma quindi, Don Maglio, vale la pena aprire questo conto corrente in limiti? Beh, la mia risposta è assolutamente sì. E se, come il 90% delle persone, anche tu accrediterai il tuo stipendio o la tua pensione, non vedo perché questo conto, che è veramente fantastico e fatto benissimo, non debba essere preso in considerazione. Ti consiglio di guardare questi altri due video che ti lascio qui, che saranno sicuramente molto interessanti per te. E come al solito, ti ringrazio per aver guardato. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao giovani!